ocitamo festival ha portato in scena nel 2020 oltre 50 appuntamenti live e sul web da una prima diretta dal filatoio di caraglio in tempo di lockdown che ha raggiunto oltre 40.000 persone ai mercati cittadini dalle vette alle grandi piazze dai castelli fino a luoghi insoliti come il parco archeologico roccerè raggiunto nel solstizio d'estate abbiamo suonato all'alba e al tramonto sempre con la stessa emozione abbiamo camminato ci siamo fermati siamo ripartiti la parola d'ordine è stata cura cura verso il pubblico e cura verso quella grande famiglia che immagina e dà forma a occitano una comunità autentica che ha dimostrato di essere viva nei momenti di festa ma anche nel dolore questo festival lo abbiamo cucito e ricucito su misura per un tempo difficile e in continua evoluzione piccoli numeri a tratti piccolissimi triage all'ingresso distanziamento e rispetto rigoroso di ogni normativa necessaria al contenimento del covid 19 è il momento dell'attesa del nuovo anno ma prima dei titoli di coda un ultimo grande grazie ai tecnici ai musicisti ai volontari e ai lavoratori dello spettacolo dal vivo agli amministratori ai nostri sostenitori e ad ogni singolo spettatore che nel 2020 ha scelto o citamo per vivere esperienze di cultura abbiamo inseguito insieme la bellezza nonostante tutto grazie a tutti